Il 2020 è stato un anno strano per usare un eufemismo. Finito il lockdown c'è stato un grosso cambiamento. Uno su tutti i miei si sono trasferiti. Quindi sono rimasto con mia moglie nella casa in cui sono cresciuto, il che è piuttosto surreale anche perché metà casa adesso è vuota. In attesa di traslocare a nostra volta abbiamo disfatto i vecchi scatoloni e addobbato un po' le stanze dove stiamo. Nonostante non ci sia più la quarantena, almeno per ora, in questa sorta di periodo di limbo i giorni tendono ad assomigliarsi tutti. Ma stamattina è stato diverso. Mi sono svegliato come al solito dopo aver posticipato la sveglia cinque volte. Mentre mia moglie già in piedi da un pezzo guardava baffi, mi sono seduto sul cesso, esatto, piscio seduto, e sono rimasto lì a scrollare Twitter finché non mi si sono addormentate le gambe. Poi mi sono bevuto il power cocktail come al solito guardando i video di Patrick H. Williams, poi mi sono craftato un bel panino e sono andato a fare la cacca. Ho fatto ordine sulla mia scrivania e ho lavorato fino a che non mi ha brontolato lo stomaco. Io e mia moglie abbiamo pranzato come due disagiati guardando Fringe col proiettore perché ci hanno rubato la tv e dato che metà cucina è stata smantellata ho lavato i piatti arretrati a mano ascoltandomi un podcast nel frattempo. Poi siccome le briciole di popcorn sul pavimento avevano raggiunto livelli preoccupanti ho passato un po' l'aspiravolvere. Ma mentre sistemavo in casa ho trovato alcune cose interessanti. Oltre ad aver riesumato le vecchie cassette con i miei corti fatti insieme a Ico e questi torneranno utili, ho ripescato tra i miei film il Blu-ray di Seven di David Fincher. Un'edizione orrenda con un master che sembra una VHS ingrandita in upscaling per adattarla al formato HD. Grazie a Ciekegori per darvi un'idea la versione remastered disponibile all'estero è così. Spero che nella nuova edizione speciale abbiano rimediato ma comunque non è stato tanto quello a colpirmi. Nell'orribile Sand Regular che sembra preso di peso da una libreria fonte di un vecchio iMac del 2002 mi ha colpito qualcos'altro. Qualcosa. Scritto in piccolo con un bollino verde sul retro del Blu-ray. Ma facciamo un passo indietro. Periodicamente salta sempre fuori il dibattito sulla violenza nei film. Al grido di NESSUNO PENSA I BAMBINI. Cosa che di primo occhito effettivamente anche un po' ha rotto i coglioni ma se devo essere sincero ci sono prima alcuni approfondimenti da fare. I miei genitori quando ero piccolo erano piuttosto tranquilli in merito. Almeno finché una sera non mi fecero vedere Indiana Jones e il Tempio Maledetto e durante la scena in cui mangiavano gli insetti ho sboccato dappertutto. Avevo tipo 4 anni. Da allora hanno iniziato a imparare a noiarsi un casino purtroppo e se devo essere sincero nemmeno in modo particolarmente costante. Lasciamo un attimo da parte Indiana Jones che tornerà tra poco e analizziamo il mio percorso climico sotto la guida dei miei genitori. Allora 17 settembre 1993 esce nei cinema italiani Jurassic Park. Tutti i miei compagni dell'elementare lo vedono a me viene vietato tassativamente. Riuscirò a vederlo solo nel 97 io ero alle medie quasi quando i miei compagni avevano già belle visto il mondo perduto. Ma vaffanculo. Comunque nonostante questi divieti l'elementare mi viene fatto vedere il 2001 di sé nello spazio che mi ha traumatizzato perché non capivo una mazza ma riuscivo a percepire un senso di tristezza immane che probabilmente non ero neanche in grado di elaborare. Ottimo lavoro. Alle medie vengo portato a vedere Matrix al cinema la scena in cui fanno i cadaveri per nutrire i feti e coltivarli vengo immediatamente portato via dalla sala. No no poi te lo so ogni la notte dicevano i miei. Poi però una sera noleggiarono Seven come se nulla fosse quindi altro giro altro trauma. Visto che siamo tornati al punto di partenza con Seven ci tengo a precisare una cosa. Allora i miei saranno anche stati un po' rompicazzo va bene ma per certi versi non è che avevano tutti i torti. Questi film sono certo la carica di 101. Teste mozzate persone sbranate cuori strappati parassiti nell'ombelico ma non c'è nessuno che avverchi di queste cose. No al cinema non c'è scritto niente. Guardi DVD le cassette. Tempio maledetto film per tutti. Jurassic Park? Film per tutti. Matrix? Film per tutti. Seven? Per tutti. No. Cioè una persona viene obbligata a mettersi uno strapon con un pugnale al posto del digo e trombare una povera crista sventrandola nel mente? Film per tutti. Non ha senso vero? Esatto. Ma questa cosa non è sempre così perché se guardi Seven in tv il bollino è rosso se guardi Jurassic Park in tv è giallo. Cosa minchia mi significa? Film per tutti? Niente. perché se andate a vedere le versioni originali dei suddetti film le cose sono un po' diverse. Partiamo dall'inizio. I semi calcoli sono esatti tipo nel 68 di lì in America venne istituito un sistema di classificazione dei film in base ai loro contenuti. Sistema che subì svariate modifiche ma che attualmente si è stabilizzato dividendosi in G, PG, PG-13, R e anzi MC-17. Passo a spiegare. Un film con rating G è considerato per tutti, sta per General Audiences che vuol dire che persone di tutte le edà possono vedere questi film. Tipo i cartoni animati in genere sono G-rated con alcune eccezioni. Anche il re leone conestamente non è che sia proprio il massimo dell'allegria. PG invece significa parental guidance ovvero in poche parole che si consiglia la presenza di un adulto perché alcuni contenuti potrebbero non essere adatti ai bambini. Niente di sconvolgente sia chiaro tipo film come Inside Out, Up, sono PG perché trattano tematiche che emotivamente sono un po' impegnative. O magari un classico come Ritorno al Futuro qualche parolaccia ma niente di estremo, un po' di tensione e tutto a posto. Un film PG difficilmente conterrà sangue, violenza esplicita o immagini disturbanti. A meno che non sia haha Indiana Jones e il Tempio Maledetto perché fu un caso, fu classificato come PG. Poi creò talmente tante proteste nell'84 che Spielberg decise di introdurre uno step aggiuntivo in questa classificazione dei film, il cosiddetto PG-13. PG-13 è come il PG ma con parecchia più empasi. I genitori sono fortemente invitati a accompagnare i bambini al di sotto dei 13 anni. Violenza, orrore, linguaggio, tutto può essere spinto un po' più in là, anche se con regole assurde. Per esempio, in un film PG-13 ci può essere soltanto un fuck, ma inteso come imprecazione e non come allusione al sesso. Poi abbiamo il Rated R, che è il rating tipico dei film horror, dove chi ha meno di 17 anni non può vedere il film a meno che non sia accompagnato da un genitore o un tutore. E poi l'NC-17, dove nessuno, sotto i 17 anni, è ammesso. Praticamente solo i porn, i film un po' maialoni. Comunque, regole idioti come quella del fuck fanno capire quanto può essere arbitraria questa classificazione. Però senza dubbio questo sistema si rivela utile più delle volte, se non altro perché esiste proprio una guida genitoriale consultabile anche su siti tipo IMDB, in cui si spiegano nero su bianco tutti i motivi di determinate decisioni e in quale circostanze ci sono contenuti che non sono adatti a minori. Ad esempio, Seven, sono un genitore, vado a vedere sul sito, ha un personale che viene asportata la figa con coltello, ok, Rated R, non ci posso andare con i figli di 2 anni e mezzo, è tanto difficile, no, film per tutti. Vabbè, comunque, ancora Jurassic Park, PG-13, Matrix, Rated R, da noi no, film per tutti. Ma come direte io? Io ho visto dei film che al cinema o al DVD erano pietate ai minori, è vero. Perché questi furboni in Italia hanno un bel sistema di classificazione dove si salta da un film per tutti a un film tassativamente pietato ai minore di 14 o di 18. Sembra non solo che non esista la via di mezzo, a meno che tu non guardi un film in TV o su Sky, ma che proprio non ci sia un Cristo di criteri per cui un film viene classificato in un modo o in altro. È veramente difficile che un film in Italia venga bollato come vietato ai minori, a meno che non sia super estremo. Io, giusto, forse, Hostel ho visto cartelli fuori dal cinema o Hit, ma anche lì i ragazzini poi venivano fatti entrare lo stesso. Cioè, che senso ha? Devono essere accompagnati? Devono essere fatti uscire gentilmente a calci, stando alla legge, sembrerebbe di sì, ma comunque che poi si vada in estremo all'altro. Cioè, il budello ovunque, film per tutti. Poi accendi la TV, guardi che ne so, sliviolo, il film è censurato a cazzo, taglizzato male per togliere tutte le inquadrature sanguinolente con un montaggio fatto da un rincoglionito, credo, dato che si sente la colonna sonora che salta, spezzettata a caso. Io davanti a queste cose rimango basito. E per dare un'idea della situa, vi faccio un elenco random di tutti i film che in Italia sono considerati per tutti. Cioè, non tutti, qualcuno, qualcuno ai livelli più frizzantini. 1917, Zodiac, il meglio verde, bastardi senza gloria. Cioè, bastardi senza gloria, ha lo stesso rating di Aladdin. Eli Roth distrugge la faccia a un nazi a colpi di mazzo da baseball, film per tutti. Cioè, poi tutti dovrebbero vedere un nazi con la faccia spappolata. Vabbè, grandi raga, comunque. Non lo so, voi cosa ne pensate? Avete avuto esperienze simili? Vi siete imbattuti nello stesso mio dilemma o non ve ne frega una ceppa? Io non lo so. So solo che, se magari questi bollini fossero stati un po' più chiari, avrei evitato magari di sboccare addosso ai miei genitori. Anche se comunque mostrare persone che mangiano il cervello di una scimmia a un bambino piccolo non è che sia proprio il massimo. Ma pazienza. Voi iscriveteci, raccontateci quali scene dei film vi hanno traumatizzato, quello che vogliamo sentire. Scrivete nei commenti, noi ci vediamo. Noi ci vediamo prossimamente. Iscrivetevi al canale, preparatevi a nuovi video diretti, cortometraggi trash e via discorrendo. Ciao! No ragazzi, che caldo!